Riccardo, la vostra stresa, Riccardo, la vostra stresa, la bambina è tua! Riccardo, riccardo. Riccardo, la vostra stresa, la vostra stresa e la vostra stresa! è un'aria non è agli destino in castaio eh, quello che vede in unico ci stiamo in mezzo ci stiamo in mezzo ci stiamo in mezzo non è che Cristiano a casa verrà non stai stresarlo quello che va stagando come si stava no, quello è il primo di qua eh, Claudio Claudio, non stai stagando è che è acqua come è la via? no, no vediamo che vediamo bene dai bravi tutti, bravi dai bravi tutti, bravi premi come si stava il primo? Claudio, premi premi non vedete il mio non vedete il mio è la cosa è il motoscarp guarda come si sei i due gruppi questo gruppo è qui guarda la foto al prossimo bene gatto bravi, continui così bravi documentato anche carinazzo carinazzo solitario ma non so mi sa tanto che se cambia troppo e che dopo col video te l'ho avvotuto ma Cristiano e l'altro su qua il primo? Claudio no ma Cristiano è avanti a puntarci avanti sicuro e che dopo Colli forse si troverà anche a Cattrano è il primo e allora però fishing 4 5 5 6 6 Grazie a tutti.